Paola Perego Noi tenteremo di fare in tutta umiltà naturalmente una sorta di spettacolo con i contenuti dell'informazione, uno spettacolo sulla informazione, uno spettacolo che costruiremo insieme minuto dopo minuto. Bene, eccoci qui nel nostro studio, il nostro pubblico non numeroso, ma molto solidale, questa signorina mi ha già detto complimenti quindi siamo partiti a suo giudizio.